Un atto di responsabilità per i cittadini e per le tasche degli stessi tassisti. Lo ha chiesto il sindaco di Torino, Piero Fassino, oggi nell'incontro a Palazzo Civico con i rappresentanti della categoria. Un atto che si dovrà tradurre è la richiesta del sindaco nella sospensione della protesta a oltranza, in corso da giovedì in città contro il progetto di liberalizzazione del servizio. I taxi dunque torneranno a muoversi in città almeno fino a domani, quando il governo incontrerà i rappresentanti della categoria per discutere le iniziative da intraprendere. È un periodo di crisi, non c'è assolutamente lavoro e liberalizzando e mettendo nuove licenze sul mercato si ridurrebbe sull'astrico una categoria che fa già fatica a portare a casa la giornata. E con lei faceva dei paragoni anche con altre situazioni in cui il servizio taxi è stato liberalizzato? Abbiamo, ma tutti quanti possono andare a controllarlo dagli studi della comunità europea. È stato liberalizzato per esempio in Olanda, in città come Amsterdam o Rotterdam o in città come Zurigo, per cui una corsa media in città della lunghezza di 7 km costa all'utente il doppio di quanto costa Milano, Torino, Roma. Da noi costa intorno ai 12-13 euro, ad Amsterdam per esempio costa 23 euro, a Zurigo addirittura arriviamo a 31 euro. Quando si parla di liberalizzazione si punta sempre l'attenzione sui tassisti, perché secondo lei? Ma forse perché sono la categoria sotto gli occhi di tutti. Secondo me è soltanto fumo negli occhi da dare in pasto all'opinione pubblica. Torino per esempio non ha assolutamente bisogno di taxi, può essere che in qualche altra città dove magari c'è un flusso di turisti in alcuni mesi dell'anno, come certe località balneari, necessitano di un rinforzo o di qualche licenza in più. Non sta certamente a me stabilirlo, ma dovrebbero esserci degli esperti di settore che arrivano a stabilire il tutto.